Io non so che cosa pensa il pubblico. Quando parliamo di queste cose molto spesso ci mettiamo sempre nelle condizioni di voler capire noi che cosa il pubblico sta pensando o gli sta arrivando di quello che stiamo facendo. Ma quella è una responsabilità del pubblico. Io sono il comunicatore, io faccio le cose nel miglior modo possibile perché il mio messaggio riesca ad arrivare al destinatario. Questa è l'unica cosa che io posso fare per prendermi cura del mio pubblico. Il resto sta nel pubblico. Il punto è che ci sarà sempre qualcuno che di fronte a me che incrocio le braccia potrà pensare che quello sia un resto di chiusura. Io non ci posso far niente in questo senso. Però penso di dover far passare anche il messaggio a chi mi ascolta che noi su quel palco dobbiamo sentirci anche a nostro agio, dobbiamo sentirci anche liberi di poter fare delle cose. Perché il problema qui è che stiamo arrivando a un punto dove a furia di mettere nei manuali queste cose, invece di aiutare le persone a sentirsi libere quando parlano in pubblico, le costringiamo dentro delle gabbie, tra virgolette, sempre più strette.